E devo dire che, anche se non sarò precisissimo, prendo la posizione di Miller. E cioè, ci sono due possibilità ora, almeno per la psicanalisi. Restaurare il padre, rimetterlo in funzione, oppure capire che cosa vuol dire questa evaporazione del padre al giorno d'oggi, nella nostra modernità o postmodernità, come si usa a dire. Nel primo caso, c'è in effetti, ci sono in effetti molti analisti, che vorrebbero riportare il padre nella sua funzione antica. Ebbene, non sarà possibile. Bisogna prendere l'altra strada. E l'altra strada, quella che indica Miller, è che Lacanon ha indicato qual è la soluzione. Ed è tramite l'oggetto A. La logificazione dell'oggetto A ci permetterà di andare al di là di questa questione e non restaurare il padre, ma riprendere tutte le funzioni che erano insite lì dentro. La logificazione dell'oggetto A.